Sono Loredana Finicelli e sono qui alla Tre Big Gallery, perché fra poco ci immergeremo nel fantastico mondo di Monnet, la prima di una serie di conferenze dedicate ai impressionisti, a questi artisti che sono alla base della rivoluzione dell'arte moderna, ma non solo Monnet, perché la Tre Big Gallery si occupa di arte a tutti i livelli, promuove gli artisti contemporanei e avvicina l'arte alle persone, attraverso l'organizzazione di corsi di pittura, di disegno, di arteterapia, perché l'arte è bella e condivisa, fatta e creata insieme. Grazie a tutti! Grazie! Grazie!